Presidente, dopo le elezioni politiche, la regione di che cosa si deve aspettare? La regione ordinamento o la regione territorio, società? Ordinamento. Ma che avrà una vita rafforzata perché oltre ai banconi della regione, per quanto riguarda le opportunità da liberare dell'economia abruzzese e della società abruzzese, avremo anche i poteri e i banconi del governo centrale. Per cui c'è da fare più uno. Ma lei ambisce all'infrastruttore o le piacerebbe anche altro? Io ambisco a determinare un chilometro zero tra i poteri del governo centrale e le aspettative della regione Abruzzo. Io lavorerò affinché dopo 25 anni si parli il linguaggio del governo in Abruzzo, il linguaggio dell'Abruzzo e il governo. Lei ricorda sempre, come lo ha fatto anche adesso, Remo Gaspari, però c'è stato un altro ministro che invece viene un po' dimenticato, che è stato anche suo predecessore in regione. Ma è durata poco quella fase, diciamo non ho avuto l'intensità di durata che sarebbe servito all'Abruzzo. Io penso ad un incarico durevole che possa esplicitare tutta l'intensità di un impegno governativo. Del Durco, diciamo, ha fatto il ministro delle finanze per un lasso di tempo, così come ci sono stati sottosegretari significativi anche lì per un lasso di tempo. Io penso ad un coinvolgimento a tutto tondo durevole. Tornando a bomba, la regione, tecnicamente l'ente regione, va al voto a scadenza naturale o l'inverno prossimo o quando? Ma questa è in materia della tecnica parlamentare. Io ho fatto delle letture, non mi sembra che ci sia nessun tipo di automatismo, anche perché il di essa quo parte dalla convalida. Dalla convalida poi c'è una procedura che va rispettata, che ha anche dei precedenti molto a favore di una idea, diciamo così, di tranquillo lavoro che caratterizza la regione Abruzzo. E le opposizioni però le hanno detto politicamente è opportuno che il 5 magari lasci la presidenza della regione, questo è escluso? Ma le opposizioni hanno dato prova quando hanno governato loro che sono stati, diciamo, rinviatori per 66 mesi. Io ho visto un governo di 66 mesi del quale le tracce dei risultati li vado ancora ricercando. I risultati sono davvero a prova di incertezza. Per quanto riguarda il loro suggerimento ne tengo conto come quello di chi sta in tribuna a dare segnalazioni di esistenza in vita. E lei che Abruzzo lascia? Ma un Abruzzo che presenta più 2 miliardi 750 milioni di euro di risorse derivanti dal rapporto centro-Abruzzo, potere governativo centrale, cipe-Abruzzo. Più 53 mila occasioni di lavoro, dei quali 53 mila occasioni di lavoro noi abbiamo almeno la metà che ha tempo indeterminato. Abbiamo 27 miliardi di euro come PIL, 129 mila imprese attive, abbiamo qualcosa come 25 miliardi di raccolta bancaria, 2 mila invenzioni e brevetti annuali, 8 mila dottori di ricerca tra imprese private e pubbliche. Se vuole le dico anche 365 alberi monumentali. Un'eredità da lasciare a chi? Al migliore che fa sintesi, a chi è capace di prefigurare una realtà ancora più efficace e funzionante, sapendo che questa volta avrà da Roma una grande alleanza e una grande sponda. In queste ore si è pubblicato il provvedimento riguardante la zona economica speciale per 1300 ettari di territorio che spingerà molto avanti l'economia abruzzese. In queste ore noi stiamo incassando da cipe risorse straordinarie per una grande cura del ferro, la elettrificazione della Sulmona, l'Aquila Rieti, che era attesa da 20 anni, o il raddoppio ferroviario Pescara-Chieti. Abbiamo completato la Fondo Valle Sangro sul piano della copertura contrattuale, abbiamo messo mano al potenziamento dei porti abruzzesi. Mai tutto questo si era concepito in così breve tempo coprendolo finanziariamente e amministrativamente. Adesso gli enti locali devono partire con gli appalti, 2 miliardi 750 milioni di euro, che devono essere appaltati poiché ogni 100 mila euro di opere pubbliche porta con sé 1,5 posti lavoro annui. Ma lei si vede ministro con quale presidente del Consiglio? Ma io mi vedo in questa grande officina nazionale a fare tutto quello che serve per questa regione. Per esempio voglio far nascere una norma che incentivi la trasformazione del lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mettendoci incentivo fiscale e incentivo da produzione industriale. Come era negli anni lontani passati quando i CFL si trasformavano. Con chi voglio fare esperienza di governo? Con chi di più coltiva agenda delle priorità ed è capace sfrontatamente di raggiungere risultati? Io ho avuto un ottimo rapporto con Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri, e con Paolo Gentiloni, che ad ogni richiesta mi ha detto di sì. Con Tavani? Tavani è un agronomo molto importante. Poi c'è un altro Tavani che fa l'albergatore che so ha avuto anche una casuale candidatura. Invece Tavani mi piace perché ha confidenza con l'Europa. Siccome io voglio costruire le macro-regioni, Tavani sono convinto che farebbe bene ad aiutare l'Abruzzo e l'Italia dall'Europa. Ma sarà un ministro lampo? Quanto durerà questo governo? Io sono convinto che dura quanto durerà e quanto sarà grande la consapevolezza dei problemi che l'Italia ha. I governi durano la quantità e la qualità della conoscenza dei problemi. Presidente, quando lei parla di dicembre è perché si sta preparando a passare il testimone a Legnini? Io ho un grande giudizio dell'esperienza di Giovanni Legnini, perché Giovanni ha esperienza istituzionale e costituzionale. E poi Giovanni ha anche un altro requisito, che non ha manco un nemico. In politica vale anche questo, l'assenza di inimicizie. Giovanni poi ha già governato in Germania, non si può fare il parlamentare se non si è fatto l'amministratore locale. Questo diciamo per statuto quasi morale dei partiti. Io aggiungerei che non si può governare una regione se non si è fatto qualcosa di molto importante a livello nazionale. Giovanni ha queste caratteristiche. Poi deciderà lui e la comunità del centro-sinistra abruzzese. E penso che sarà una comunità molto ampia.